c'è raga allora guardate siamo in tre io sono morto vabbè c'è il mio amico sta facendo la challenge doppia pistolina e barrett raga se riesce a vincere questa madò freh ho più ansi no dai hanno tutti e due il o è a terra ora è tanto e basta cavolo si a terra grande fra 1v1 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 si madò ragazzi se ce la fa a vincere così occhio fra che non ha no no raga raga sono troppo in ansia no madonna mia cioè se avessi avuto l'armi di prima fra avevi vinto mi sa adesso comunque non sei mica male ce ne avevamo mai giocato con te ma non sei comunque male io sono morto a quel casp e vabbè non puoi dirmi che sono c'è no è stata sponata con una pistola con quella che tu che scema bellissima vittoria reale io non so che dire raga spero che questo micro video vi sia piaciuto e niente su foto è tutto il possibile da me da me e filippo è tutta bella ciao